Ciao a tutti, in questo nuovo video vedremo come utilizzare contemporaneamente la Audient IT14 e la Motu 896 HD. Per prima cosa dovrete punirvi di un cavo ottico. Dopodiché andiamo a guardare il retro delle due schede. Possiamo notare come la Audient disponga soltanto dell'Optical In, mentre la Motu dispone sia dell'Optical In che dell'Optical Out. Stando così le cose, sarà la Motu a fare da Master, mentre la Audient potrà fare soltanto da Slave, proprio perché è munita soltanto dell'In. Quindi il cavo ottico andrà collegato nell'Optical In della Audient e nell'Optical Out della Motu. Dopodiché potrete accendere le due schede e vi occorreranno i rispettivi software. Questo è il software della Audient. Questo è uno dei due software della Motu. Dato che la Motu farà da Master, dovremo impostare il Master Clock Source nel software della Motu come Internal. Le due schede dovranno lavorare necessariamente allo stesso Sample Rate, quindi 44100 qui sulla Audient e 44100 sulla Motu, però potete anche impostare 48088 e così via. Non cambia. L'importante è che entrambe lavorino allo stesso Sample Rate. Andiamo in questa scheda qui. Optical Output deve essere impostato su ADAT. Apriamo System. Il Clock Source nel software della Audient deve essere esterno, non interno, quindi Optical. Digital in ADAT. A questo punto utilizziamo l'altro software della Motu, che è il Q-Mix. Partiamo dal Bass 1. Al Bass 1 assegniamo l'output come output ADAT 1 e 2. Alziamo i fader dell'analog 1 e dell'analog 2 e mettiamo i panni rispettivamente tutto a sinistra e tutto a destra. Passiamo al Bass 2. Assegniamo come output l'adat 3 e 4 e alziamo il fader dell'analog 3, il fader dell'analog 4 e i panni rispettivamente tutto a sinistra e tutto a destra. Facciamo lo stesso anche per il Bass 3. Assegniamo all'output ADAT 5 e 6. Alziamo i fader. Panni tutto a sinistra e tutto a destra. E infine anche per il Bass 4. Output ADAT 7 e 8. Alziamo i fader. Pan tutto a sinistra e tutto a destra. Quando utilizzeremo la Digital Audio Workstation impostiamo come driver quelli dell'Audient e assicuriamoci che il primo input sia quello dell'audient, l'analog 1. L'ultimo invece sia l'adat 8, cioè quello della moto. Così poi quando dovremo andare a armare la traccia potremo impostare l'input che preferiamo. I primi due sono quelli della Audient, gli ultimi 8 sono appunto quelli della moto. Questo è tutto, se avete delle domande scrivete nei commenti. Vi ringrazio per aver guardato. Alla prossima. Ciao.